Il 30 luglio a San Giorgio Morgeto, i carabinieri della locale stazione, in esecuzione dell'ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere messa al Tribunale di Palmi, è stato tratto in arresto a vati donato di 48 anni. Già noto alle forze dell'ordine, il predetto, pur essendo sottoposto a custodia cautelare agli arresti domiciliari, era stato colto in più circostanze fuori dalla propria abitazione. A Seminara, località Pontevecchio, i carabinieri insieme all'usilio del IV Regimento a Cavallo hanno rinvenuto una piantagione composta da 200 piante verosimilmente di tipo cannabis indica, per un peso complessivo di circa 50 kg. Mentre ieri in San Ferdinando, i carabinieri della locale gendarmeria, in esecuzione in ordinanza di applicazione di misura cautelare, emesso sempre dal Tribunale di Palmi, ufficio GIP, hanno tratto in arresto guerrisi salvatore di 25 anni. Già noto alle forze dell'ordine, il predetto è ritenuto responsabile di tentata rapina ai danni di un cittadino albanese, ma ad aggravare la pena anche minaccia e resistenza pubblico ufficiale atti nel mese di giugno di quest'anno. Il prevenuto è stato associato presso la casa circondariale di Palmi.